Tragico lutto per il cinema italiano. E' morto all'improvviso poco fa, tutti in lacrime. Prima di scoprire tutti i dettagli, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Tragico lutto per il cinema italiano. Nelle scorse ore è venuto a mancare Arnaldo Dell'Acqua, il più famoso stuntman italiano. Per anni è stato la controfigura di Bud Spencer. Dell'Acqua è morto all'età di 86 anni. La notizia è stata comunicata dal fratello Ottaviano sui social. Caro fratello, sei stato la mia guida e il mio mentore. Ti vorrò sempre bene e sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, il tuo pupillo Ottaviano. Arnaldo Dell'Acqua, uno degli stuntman italiani più noti, è morto il 23 luglio a Roma. Nato a Campobasso il 14 maggio 1938 in una famiglia di cascatori, ha iniziato la sua carriera lavorando nel circo e poi a Cinecittà come controfigura. Ha partecipato a oltre 120 film, tra cui molti accanto a Bud Spencer. Tra i tanti film a cui ha preso parte, si ricordano lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, Piedone lo sbirro e Gli Invincibili 3. Ti invitiamo a lasciare un commento per esprimere le tue condoglianze. E ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto su Febbre da Gossip.